Era un brano sull'amicizia, l'amicizia di Aristotele. Era complesso, veramente complesso. Io pensavo quattro ore, dico va bene, lo faccio, mi avanzano, me lo riguardo tutto. Invece sono servite precise, quattro ore tutte. Un brano tratto dall'Etica Nicomachea, l'opera più importante di Aristotele, che può essere considerata il primo vero e proprio trattato sull'etica scritta dal filosofo in più di dieci anni. È stata questa la versione di Greco proposta agli studenti del liceo classico per la seconda prova scritta della maturità, quella diversa a seconda dell'indirizzo scolastico, in quanto incentrata su una delle materie più importanti del proprio percorso di studio. È andata un po' male, ma penso un po' per tutto l'istituto. È andata una versione che non ci aspettavamo, lunga, impegnativa. È stata veramente difficile. Mi sarebbe aspettato magari qualche altra cosa, oppure anche altri autori, come ad esempio Plutarco e Platone, che erano più gettonati. Aristotele, questo brano, è stato, insomma, faticoso. Sono oltre 2.800 gli studenti e le studentesse a retina che questa mattina hanno affrontato la prova forse più temuta. Per gli studenti del liceo scientifico, la traccia scelta ha riguardato il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Al liceo delle scienze umane, diritti umani e principi democratici è stata la traccia scelta. Ed infine gli studenti degli istituti tecnici si sono confrontati con una prova sul sistema di smissamento dei prosciutti di un prosciuttificio. Lunedì prossimo, infine, sarà il turno dell'ultima prova scritta, la terza prova. Ho fatto tre giorni per studiare l'intero programma di quattro materie, quindi anche questa sarà impegnativa, però sicuramente non quanto quella di oggi.